Ti avevo detto che non dovevi mai seguirmi. Lo sai che non vogliono che andiamo su. Ok, che è successo? Niente, ha dato ordine ai soldati di stare al loro posto e mi ha chiesto di scendere. Non hai avuto paura? E perché avrei dovuto? Può urlare fino a domani mattina. Dan ti ha chiesto di me. Dan? Aspetta, fammi pensare, vediamo. Ah sì, Dan mi ha chiesto se sai parlare inglese. E come si chiama l'altro? Ah, quell'altro. Si chiama Ariel. E pensa che gli altri lo prendono sempre in giro perché sta tutto il giorno davanti allo specchio. A sistemarsi i capelli, a guardarsi, a specchiarsi. Come le femmine? Sì, proprio come le femmine. Allora mi prometti che non mi seguirei più, va bene? Bravo. Dai, andiamo. Dai, andiamo. Dai. Alla prossima. 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 Alla... Alla prossima. Alla... 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 Grazie a tutti.